Sarà un capodanno da tutto esaurito in località turistiche di Valterina e Valchiavenna, paesaggi mozzafiato quelli che si possono ammirare dopo le recenti nevicate. Le immagini che arrivano da Madesimo parlan da sole. La perla della Valle Spluga si conferma regina delle nevi. Ma anche la Val Malenco, Aprica, Bormio, Livigno e Santa Caterina regalano ai visitatori scenari da favola. Ecco i commenti raccolti fra i turisti saliti a Bormio, località che si gode l'effetto traino della due giorni di Coppa del Mondo. Fini anno a Bormio? Assolutamente sì, soltanto dal 1975. Quindi sono 42 anni. 42 anni e posso godere anche della città di Nazionale di Bormio. Vengo da quando sono nata, per cui capisce, secondo me è stupenda. Hai imparato a sciare qui? Sì certo, ho imparato a sciare qui e secondo me, io che ho fatto tante piste, questa della discesa libera è la più bella in assoluto. Ti racconti com'è nata l'idea di venire a Bormio per... Per fare l'ultimo dell'anno. E basta. Arriva? Da Milano, Paraviago. La scelta di Bormio, com'è nata l'idea? Seconda casa. Vabbè, insomma, per i bambini penso un'opportunità. Cappellino fantastico. Bellissimo, ci siamo organizzati per la gara e poi anche per il Capodanno. Abbiamo qua i campanacci di Grosio. La nevicata di questa notte non fa altro che riempire questa stagione e questa Bormio bellissima. Bellissimo, un'emozione fantastica. Bormio è molto bello, è la prima volta che vengo qui. Bellissimo. È stato bellissimo. Io sono venuta dalla Sardegna, forza Italia. Bormio è una cosa, non è una pista facile, penso che sia una delle piste più difficili del circuito. Siamo qui a Bormio, è stupendo, veramente unico. I fiocchi oggi sono tornati a cadere anche sul Fondovalle e qui siamo a Sondrio, città che in vista della notte di San Silvestro ha già diffuso l'invito a festeggiare senza botti o fuochi d'artificio. Tagli obiettivi quello di evitare inutili sofferenze agli amici a quattro zampe che hanno un udito più sviluppato del nostro. Fuochi e botti vietati a Chiavenna, dove è stata emessa un'ordinanza ad hoc. Il 2017 iniziò con il grande incendio divampato sopra la città, pauroso rogo innescato proprio da un fuoco d'artificio. E nessuno vuole rivedere quelle scene all'alba del 2018. Fondovalle